florenzia si e così tu sei un principe per davvero no io sapevo che le mie fatine risolvono sempre tutto ma non pensavo che fossero tanto tanto veloci avranno internet ovvio ovvio internet il meglio del meglio per conoscere meglio qualcuno ma questo è un incontro magico no perché insomma tu io ci siamo incontrati ti trovi così così alto così biondo così muscoloso così muscolato ti sei accorta malgrado il mio giubbotto ti sei accorta dei miei pettorali e temi muscoli e non ti sei ancora accorta dei miei denti che meraviglia sono come tante perle dentro la stessa ostrica mi piacciono però devo riconoscere che anche tu sei alla mia altezza sei bellissima flore sei il mio sì certo perché non ci posso credere sai è credere o morire perché c'è tanta gente che non crede alle fate il prossimo che mi dice non ci credo lo distruggo flor flor senti una cosa mi faresti l'onore di bere qualcosa con me per favore ma certo dov'è il cocchio i cavalli la carrozza beh niente beviamo qualcosa qui ha funzionato ragazzi ora la fatti due me ne occupo io piccole mi raccomando che carino come sei bello tesoro che c'è ti sei emozionato mi fai morire no sì il fatto è che non io non l'avevo immaginato così veramente l'ho sempre sognato in un altro modo ma l'importante è che ci amiamo no sì però non mi sembra il momento giusto per farlo mi piacerebbe che ci fosse la mia famiglia che fosse più gradevole di questo ecco che ti succede no per favore dobbiamo sposarci adesso prima che sia troppo tardi aspetta aspetta pronto si thomas cosa vuoi adesso federico viene al passaggio dei baci devi vedere una cosa subito no 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 adesso devi aspettare perché non posso il fatto è che tesoro tuo fratello ora non può venire da nessuna parte perché ci stiamo sposando d'accordo si stanno sposando un'altra volta per favore possiamo cominciare al più presto sì signor giudice no no perché non non ci sono i testimoni e mi piacerebbe che ci fosse il mio amico fraterno e avvocato mattias e non per favore non importa lo sostituiamo subito questo non è un problema pedro chi pedro per favore i vostri documenti non ce l'ho qui il documento non è nello studio mi dovrà fare questo perché io non ho tempo senta pensavo che le avreste già a portata di mano sono a portata di mano perché non pensavamo sbrigati federico pedro sì mi dovresti fare un grandissimo favore non sai il cognome oppure non me lo vuole dire no perché non dovrei dirtelo il fatto è che si chiama alberto alberto non non sa cosa però questo qui è l'indirizzo guarda solare 1550 bene questo è un indizio per cominciare a cercare vuoi che ti accompagni sai mi piacerebbe fare qualcosa per mia nipote sì non c'è problema forza per favore pedro fallo per te per me per la nostra felicità per la nostra felicità quindi vuoi che sia il testimone del tuo matrimonio con un altro mi stai prendendo in giro del film no no ma pensaci bene quando sarà sposata con federico potrò dedicarti più tempo finiranno i problemi tra di noi saremo più rilassati capisci dai dimmi di sì dimmi di sì 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 va bene sì ma voglio la metà di tutto in un conto in banca a nome mio cosa ma tu sei impazzito che mi stai chiedendo e questo sarebbe il grande amore che tu provi per me no io ti amo davvero ma se tu non hai problemi a usarmi non li ho neanche io quindi le condizioni d'ora in poi le detto io ecco l'altro testimone sì benissimo dai il tuo passaporto al giudice come io dovere consegnare documenta in mano propria non potere lei chiedere io rispondere così dal vivo in diretta le chiedere mi rispondere un andare un avvenire no 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 signora io devo verificare i suoi dati personali ah per favore mi dia il documento mi dia il documento per favore Greta van Beethoven nata a Güsseldorf il 27 novembre del... non poterle leggere in silenzio in privato signor giudice tutti i dover sapere dati di Greta eh è tutto cancellato è riscritto sopra ah sì questo succede il giorno che mi stare bevendo te e cadere gocina giusto sopra documenta e poi cancellare proprio sopra di data proprio ma signora questo questo è un delitto modificare un documento molto peggio girare il mondo con data di nascita di medio uovo e evo signor giudice il documento non è valido la signora non può fare il testimone allora dobbiamo rimandare il matrimonio no no per favore signor giudice è la birichinata di una signora vanitosa non è il caso di rimandare il matrimonio per questo per favore facciamo finta che non sia successo niente beh per questa volta ci passerò sopra e procediamo eh mi dia il suo documento Federico il mio sì il mio il mio il mio che succede amore mio no no Greta sono andato nello studio ha aperto tutti i cassetti e non l'ho trovato da nessuna parte ah che basta basta rimandiamo tutta un altro giorno no no per favore assolutamente no quel documento sarà ritrovato da questo momento comincia l'operazione rastrello e così per provare ho chiesto alle mie fatine di mandarmi una stufa per sciogliere il freezer capisci quindi hai freddo è questo no no capisci e tu come ti chiami? massimiliano soffa non ci posso credere mi prendi in giro no massimiliano stufa no massimiliano stufa non ci credo vedi come sono le mie fatine meravigliose ma fuori di testa fanno di tutto per esaudire le mie richieste alla lettera capisci mi hanno mandato una stufa proprio oggi si doveva sposare se non li vede insieme tutto finito ragazzi e quelli via da far innamorare flor no non credo eh no qui non c'è niente non l'avrà dimenticato in macchina? eh federico hai trovato il tuo documento? no ancora no continuate continuate a cercare che ci fa qui il dépliant di Funtime? non l'hai ancora aperto? quando mi farai partire? eh senti io lasciamelo qui e appena posso ma guardalo non l'hai mai guardato uccidenti ora che... chi doveva essere? Delfina cosa vuoi? l'avete trovato? eh no non ancora ma lo stiamo cercando accuratamente allora smontate le cornici svuotate il cassetto dei calzini fate quello che volete ma trovatelo subito essere qua vengo e qua essere occhiali che perdere mese scorza e federica io trovate ma ma che fortuna abbiamo Greta che fortuna che testa santo cielo pensa di occuparsi così della sua futura famiglia? continuate a cercare io ti faccio che cazzo fare adesso? sì 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 dai sì bene ragazzi vi... vi farò sapere quando... attenzione attento quando... quando faremo un'altra riunione non so che succederà quando avrà qualche novità vi... piano piano andate di là sempre dritto sempre dritto per tre isolati la prima a sinistra ve lo ricordate no? sì sì ciao sono simpatici i tuoi amici molto in gamba sì sono in gamba non so come la prenderai però... io voglio partecipare sì voglio dire c'è posto per un altro socio come un socio? dici un altro socio? un socio di cosa? io vorrei collaborare allo spettacolo teatrale ah... certo no non sarà possibile perché lo spettacolo teatrale non lo faremo perché? perché il nostro centro non ha i fondi per farci fare uno spettacolo teatrale vero noi in realtà ci riuniamo e proviamo per divertirci tutto qui no 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 voi lo farete perché io ti darò tutto e lo farete dai dai no no nicolas grazie davvero non ti disturbare no 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 sì non mi disturba perché voglio farlo ti voglio aiutare voglio che lo facciate io sarò il miglior produttore dell'universo sai sì vedrai te ne accorgerai beh adesso me ne vado me ne vado Sofia senti non hai visto Thomas? no è appena andato via perché in questo momento si sta sposando mia sorella con Federico scusa e così ti hai ricomprato l'appartamentino annesso allo studio Santijan perché? per studiare le tue amanti degenerato Fanmacin come sta? che bello vederla Fermin Fermin ma certo era una battuta come potrei dimenticarla e lei si ricorda di me chi sono? vediamo mi guardi bene lei è la signora Santijan vedo va Santijan perché Alberto è morto da tempo una tragedia spaventosa lo piangiamo ancora ho saputo poverino e le faccio le mie condoglianze signora Mala grazie fammacin la ringrazio molto moltissimo ora a parte le condoglianze le devo chiedere